Raccontaci un po' la tua emozione. Non ciò che augurare agli interni e agli esterni, agli juniores e agli seniores una buona fortuna e che venga il migliore. Hai partecipato soltanto tu? No, allora per gli interni abbiamo diversi ragazzi dalla sezione juniores, dalle quinte ginnasiali e dalle prime liceali. Per i seniores diversi ragazzi dalle seconde liceali e dalle terze liceali. Quindi come ti chiami? Io sono Giuseppe Scala, seconda A. Seconda A. Quindi hai delle speranze? Sì, speriamo, speriamo. Non hai vinto ancora niente? Quest'anno? No, ho ricevuto delle menzioni a dei certamini di latino e greco.